Io sono nata a Milano nel 1930 e la stazione ha più o meno la mia età. La stazione non è fatta soltanto di quel piano che tutti conosciamo con tanti binari per tante destinazioni. La stazione ha un sotterraneo, grande quanto la stazione e nell'indifferenza generale del mondo intero. Io fui tra quelle e tra quelli che per la colpa di essere nata partimmo dal binario 21 deportati ai campi di sterminio. Chi passa distratto dal binario 21 della stazione centrale di Milano pensi che a pochi passi c'è un memoriale, memoriale della Shoah, con la storia di tanti che partirono per non tornare mai più.